Ciao ragazzi e bentornati su Cose dell'altro cinema. Occhiali neri del maestro del brivido, Dario Argento. C'è ancora qualcuno che si ostina a chiamarlo maestro del brivido? E io sono pure d'accordo, cioè nel senso è ancora il maestro del brivido, è cambiato il tipo di brivido però. Se una volta il brivido era quello della paura, adesso il brivido è quello del cringe che ti sale lungo la schiena quando guardi certe soluzioni di messa in scena, certe soluzioni di regia, certe soluzioni di sceneggiatura perché sale proprio questo brivido, maestro del brivido, sono d'accordo. Dario Argento. Ora Dario Argento secondo me rappresenta il sogno italiano. C'è il sogno americano e c'è anche il sogno italiano. Il sogno italiano qual è? Fare un sacco di ciambelle nei primi anni della tua vita, a un certo punto fai una sola ciambella col buco e grazie a quella ciambella tu campi per l'eternità. Ci sono un sacco di cantautori in Italia che si ricordano per una canzone. Hanno fatto altra roba ma è sorprendentemente mediocre e di solito quando vanno a fare le serate perché le fanno ancora le serate dal 70, fanno ancora le serate oggi con quell'unico brano è come se nel repertorio avessero una sola canzone. Loro fanno qualche cover degli anni 60, 70, non sia mai che il pubblico poi si sente nel 2000 e fanno qualche altra loro canzone che però non la conosce nessuno neanche tipo il loro agente le conosce quelle canzoni e a metà serata quando alla sagra della porchetta con i funghi la gente ha finito di mangiare il panino con la porchetta e vuole andarsene a casa perché testa e rompe i coglioni con canzoni sconosciute e anche brutte loro partono e ti mollano il successone che all'epoca andava in heavy rotation nelle radio che all'epoca gli ha fatto riempire San Siro per un paio d'anni. Oggi è un po' più difficile perché con i social è diventato terreno battuto da chiunque però all'epoca se tu riuscivi a farti uscire una ciambella porco due, ci vivevi fino alla fine delle stelle su quell'unica ciambella fai una ciambella ma è così grossa e puoi continuare ad affettarla per 40 anni e venderla ancora quasi a prezzo pieno. Quasi perché se prima ci riempivi San Siro adesso vai alla sagra del torciglione ammuffito però è sempre così quindi il miracolo italiano. Ora c'è da dire che Argento non rappresenta in pieno il prototipo del miracolo italiano perché il miracolo italiano è una ciambella Argento di ciambelle buone ne ha fatte alcune. Agli albori della sua carriera ha fatto più di un film valido. Ho rivisto Fenomena qualche tempo fa e siccome l'avevo visto che ero molto giovane la prima volta ho pensato ok forse stavolta ci trovo qualcosa che mi fa un po' cagare invece l'ho apprezzato ancora di più. Ci sono delle soluzioni di sceneggiatura bellissime un'atmosfera particolare durante i dialoghi è un'atmosfera assurda sospesa che non è una cosa vera quella che stai guardando però stilisticamente parlando torna tutto. Argento all'epoca riusciva a far dire e a far fare ai suoi personaggi cose poco realistiche poco naturali e però siccome l'atmosfera del film sorreggeva quelle sue scelte funzionava tutto cioè quella è la magia quella è l'autorialità quando tu riesci e come Tarantino quando fa una sparatoria e volano 18 litri di sangue ogni colpo no? chiunque altro non potrebbe fare quella cosa la fa Tarantino e funziona perché? perché riesce a mettere su un totale un tutto che supporta quelle sue scelte e le rende giuste le rende godibili le rende migliori di altre. Non è facile mettere su un tuo stile ora lo stile di Argento l'ho sempre detto secondo me è un distillato di Hitchcock Bava con delle intuizioni originali di Argento non è che lui da zero ha creato no? questo mito l'ha creato salendo sulle spalle di gente sicuramente più esperta di lui ecco però funzionava vi ripeto fenomeno me lo riguarderei pure oggi forse è il mio film preferito del vecchio Argento ma è profondo rosso per dire non fa impazzire è un buon film ma non fa impazzire Suspiria è bello è un bel film però al 90% quel film è fatto da Bava quello è Bava non è tanto Argento quello che mi piace di Suspiria viene tutto da Bava l'uso delle luci il tipo di atmosfera ci sta ok però per me Fenomena è veramente un film della Madonna e mi fa male andare oggi al cinema e vedere Occhiali Neri faccio fatica a pensare che sia la stessa persona Occhiali Neri è un film con una storia semplicissima ma girata di un male ma di un male io pensavo che il top come come disastro lo raggiungessimo con Dracula 3D sono stato smentito perché Dracula 3D nonostante sia più divertente perché più ambizioso no? quindi più sei pesante più fai rumore quando cadi è sicuramente più godibile cioè questo Occhiali Neri dura dieci undicesimi di esorciccio? un'ora e ventisei minuti una cosa così? ok sembra che dura due ore e mezza è proprio palloso è proprio palloso nessuno degli attori coinvolti sembra convinto ma io capisco io capisco cioè tu mi prendi la Pastorelli la Pastorelli se la piazzi nel ruolo giusto è brava è convincente guardate quello che ha fatto in Lo chiamavano Gigrobo anche qui il ruolo le si addice cioè qui lei fa comunque una ragazza romana è comunque una prostituta quindi è una ragazza della strada non è una fisica nucleare non è la figlia di un principe no lei comunque è ancorata a quel tipo di realtà è più sveglia rispetto a lo chiamavano Gigrobo perché qui è scafata comunque la prostituta sta sempre attenta che non la freghino è tosta è più tosta insomma il suo personaggio ci poteva stare lei poteva farlo molto bene sto ruolo invece no perché la sceneggiatura è quello che è probabilmente è stata anche diretta in maniera diversa da come la diretta Mainetti diciamo la verità e quindi è un disastro pure lei terrificante fa una parte anche Asia Argento in questo film ma non commenterò come al solito insomma questo film è un bordello la storia è di questa prostituta che si ritrova nell'occhio di un serial killer che uccide solo prostitute ora che succede? succede che questi due a un certo punto del film si incontrano lei e questo serial killer e lei fa uno sgarbo a lui e quindi lei non solo diventa una delle tante prostitute che lui vuole uccidere ma ci si fissa proprio cioè quindi inizia a stalkerarla a seguirla per ottenere una vendetta ok e allora la Pastorelli in questo portice di paura si ritrova a essere tamponata da questo furgone guidato dal maniaco a fare un incidente bruttissimo dal quale lei esce completamente cieca e invece un'altra macchina viene proprio sventrata muoiono i due sui sedili anteriori mamma e papà e resta orfano sto bambino cinese e questa Pastorelli se lo piglia in casa come ci si piglia in casa un gatto sostanzialmente sto bambino cinese senza senza avere permessi senza niente è molto surreale da quel punto di vista il film ecco la storia prosegue così la Pastorelli questo bambino cinese lei completamente cieca questo assassino che la bracca e alla fine insomma cioè quello che vi aspettate proprio esattamente quello che vi aspettate ci sono diversi problemi nella scrittura di questo film il primo problema è che tu capisci immediatamente chi è l'assassino proprio da subito la prima volta che lo vedi fisicamente capisci che è lui dove sta la bruttezza di questi occhiali neri allora la bruttezza di occhiali neri purtroppo sta in ogni aspetto produttivo ognuno ogni aspetto produttivo di questo film contribuisce a farlo essere un brutto film partiamo dalla fotografia che è semplicemente corretta cioè è una fotografia che serve a farti vedere quello che stai guardando non sottolinea mai una situazione non non fa mai qualcosa di interessante per l'occhio serve soltanto ad illuminare la scena è la stessa fotografia che avresti in un ufficio cioè non riesco a pensare positivamente di un regista che una volta si ispirava a Bava per creare il suo Suspiria e adesso si ispira all'Oshan non c'è un movimento di macchina interessante non c'è una soluzione interessante non c'è un'inquadratura iconica che ti faccia pensare ah quello è Occhiali Nere no no semplicemente la regia è asservita a farti vedere le cose che dovresti vedere che ci sta ci sta la regia invisibile a me piace di solito ma mi piace la regia invisibile stilosa qui no qui è la la regia proprio da è quasi una regia da sitcom ragazzi è mostruosa qualcosa di un piattum di un nulla condita da soluzioni che andavano bene 40 anni fa 50 anni fa cioè quando il cane ti attacca cioè ci sono 10 fotogrammi così della soggettiva penso della lingua del cane che si avvicina alla faccia è roba vecchia dal punto di vista del gore dello splatter noi sappiamo che Dario Argento ci indugia volentieri su queste cose sempre coadiuvato da stivaletti anche da quel punto di vista siamo negli anni 80 forse dire anni 90 sarebbe troppo e ci sono queste esagerazioni che però non so come le esagerazioni di Tarantino che sono supportate da tutto un ecosistema narrativo no sono le esagerazioni e basta batti il mignolo sull'angolo del comodino ok ne convengo è una cosa dolorosissima in questo film batti il mignolo ti ritrovi sventrato con le budella attorcigliate al ventilatore ci stava una volta forse ci poteva stare ma oggi è troppo è veramente troppo ed è ridicolo far ridere oggi che ti danno un coppino qua dietro e tu sputi il cervello oggi non va bene più e questo film è così anche perché in effetti l'assassino all'opera non lo vedi mai cioè quest'assassino viene raccontato per procura o è morta un'altra prostituta o c'è stata lo vedi uccidere ma veramente sono le uccisioni meno ispirate che abbia mai visto la prima uccisione che vediamo è terrificante c'è questa ragazza che cammina di notte a un certo punto uno la prende da dietro con un laccio di ferro la prende così la strangola non c'è un'idea non c'è niente perlomeno non c'è l'ombra sul muro dell'assassino che fa perlomeno Dario Argento si è trattenuto dal fare questa cosa ma ma veramente no no le scene più belle dunque alla fine quando Ilania Pastorelli e questo bambino cinese sono braccati da questo assassino che ormai gli stacco il fiato sul collo stanno scappando in campagna così e a un certo punto si ritrovano in un acquitrino camminano camminano uh serpenti e in acqua ci sono sti capitoni sti anguille non lo so sono inquadrature molto 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 rapide e così questi serpenti cominciano ad attaccarli a un certo punto la Pastorelli si ritrova sto piccolo boa constrictor intorno al collo i serpenti continuano a cambiare di razza e qualità un po' come gli uccelli di Hitchcock ma erano altri tempi ed erano altri registi è una scena surreale la lotta contro i serpenti nell'acqua parte che spezza proprio questa fuga la spezza fa proprio una ragazzi è ora della ricreazione serpenti orribile orribile queste inquadrature confuse sott'acqua di ste anguille che vanno correndo a destra e sinistra lei che si ritrova il serpente intorno al collo senza motivo raga è difficile descriverla l'ho visto al cinema ma non ho neanche delle immagini da mostrarvi è tanta roba tanta roba e altra scena che secondo me spacca il culo anzi altre due scene che spaccano il culo e hanno tutte a che fare con il cane guida di sta ragazza cieca la prima è quando l'assassino va a casa della ragazza e le frega il cane e lo addormenta ora questo è un cane addestrato ok è addestrato a sostanzialmente a proteggere sta ragazza a farla andare in giro per strada senza che si faccia male questo assassino si ritrova a casa della ragazza e c'è la scena in cui narcotizza il cane come si narcotizza un cane la guardia te lo fai da fuori l'appartamento cioè nel senso con un tubo con qualcosa mandi del gas oppure usi delle polpette avvelenate qualcosa del genere se sei proprio figlio di puttana usi quelle avvelenate se sei soltanto stronzo usi una sostanza che faccia dormire il cane ecco l'assassino qui non fa nulla di questo entra in casa indisturbato raggiunge il cane e a 10 cm dalla faccia del cane spruzza una roba io lo so raga è difficile capire quanto sia brutta sta scena però ve la racconto in termini di inquadratura si vede il cane di profilo così e poi dal lato destro dell'inquadratura entra sta bomboletta stacco immaginatevi sto cane che vede entrare un intruso sta così e si fa spruzzare sta bomboletta in faccia io credo neanche Toffo avrebbe avuto questa reazione Toffo non ha fatto mai la guardia a nulla neanche a se stesso ma neanche Toffo avrebbe reagito così si sarebbe quantomeno chiesto chi è chi è questo sconosciuto magari si sarebbe avvicinato magari gli avrebbe portato una palla di gomma credo ma non sarebbe stato fermo così a farsi spruzzare in faccia non esiste è brutta e quindi questa è la prima scena che coinvolge questo cane che fa veramente schifo la seconda scena è il momento in cui l'assassino finalmente becca pamper focaccia allora esattamente come in le colline hanno gli occhi il cane è un po' l'elemento risolutore perché alla fine questo assassino viene atterrato dal cane il punto è come è stata girata questa sequenza si vede sto cane che attacca l'assassino in un tripudio di stacchi velocissimi che non fanno capire una sega però a un certo punto sto cane gli salta addosso come per attaccarlo alla gola c'è questo stacco veramente millimetrico proprio due fotogrammi dove si vede il coltello dell'aggressore che taglia una roba marrone che vola a mezz'aria come questa cosa velocissima tu pensi cazzo ha tagliato il cane un attimo dopo senza neanche farti vedere l'aggressore che cade l'aggressore è steso al suolo già con la testa per terra così e il cane comincia a mangiargli la gola cioè quindi il cane salta noi vediamo questo coltello che fa così l'aggressore è disteso a terra e il cane gli sta mangiando la gola tutti tutti e quattro perché eravamo in quattro quella sera tutti e quattro li siamo guardati in faccia che cazzo è successo? è stato come se qualcuno ci avesse colpito alla testa e ci fossimo risvegliati qualche secondo più tardi mancava proprio un pezzo non sappiamo se il cane abbia subito danni se questo l'abbia preso col coltello se questo sia inciampato per il peso niente semplicemente ti basti sapere che lui ha toccato una cosa marrone e poi si è ritrovato teletrasportato a terra e la scena del cane che gli mangia la gola ovviamente è esagerata con questo cane che sta lì morde tira via pezzi lui che diventa una statua non si può più muovere in questo film in tutti i film in realtà di Argento degli ultimi anni quando tu sei una vittima ti danno un colpo fosse pure un pestone sul piede dopo di che tu sei immobilizzato non ti puoi muovere non puoi reagire poi c'è tanto fare questa faccia qui mentre ti tagliano mentre ti staccano cose per lunghissimi quarti d'ora succede così anche con questo cane che gli morde la gola per un'era geologica e gli altri personaggi stanno lì a guardare fermi passi la ragazza cieca però consigliato certo assolutamente sì occhiali neri super consigliato il maestro del brivido è tornato io so che ha una certa età ma spero che riesca a fare un'altra ciambella col buco vi immaginate se prima di ritirarsi del tutto Dario Argento ci rifà un fenomeno cioè un film di quel livello non un remake di fenomeno ma ci rifà un film di quel livello a sorpresa a sorpresa perché adesso non ci credono neanche più gli appassionati neanche Nocturno neanche Nocturno cioè Nocturno ho letto la recensione di Nocturno tutte le volte che esce una roba di Dario Argento vado sempre a leggere Nocturno perché so che questa è tutta una cric sono tutti amici quindi un po' si spalleggiano a vicino Nocturno stavolta fa una recensione molto in realtà molto buonista e alla fine scrive beh ragazzi comunque è un film di argento che cazzo vi dobbiamo dire di argento forza quando tu finisci una recensione così vuol dire che insomma un po' l'hai accusato anche tu il film noi ci vediamo al prossimo video ragazzi e probabilmente parleremo di Assassinio sull'unilo e di un progetto molto strano di Kenneth Branagh che mi fa venire un brivido il primo brivido quello di paura è un po' l'hai accusato che mi fa è un po' l'hai accusato